come dire, come segno. Io credo che si possa dire senza tema di essere smentiti che la cifra della dignità di un popolo, di una comunità, sta nella considerazione di un uomo come valore assoluto. Tutte quelle esperienze, anche storicamente, che hanno trattato l'uomo come un mezzo, hanno rappresentato le cose più brutte che poi la storia ci ha raccontato. Un progetto come questo dice che qualsiasi uomo vale, ha una dignità, anche quelli più bisognosi, più poveri, più nella miseria e nell'indigenza. Quindi, insomma, trovare diversi soggetti che si ritrovano insieme per questa considerazione di ogni persona, quelle persone che tra noi, insomma, fanno più fatica dentro la vita, lo ripeto, credo che abbia un valore anche per quello che rappresenta e quindi, insomma, noi siamo lieti di poter, come dire, partecipare di questa esperienza.